Capillare e distribuzione degli impianti presenti sul territorio e concorrenza sul mercato, questi i fattori che rendono la Puglia una delle regioni più virtuose del Sud Italia in termini di raccolta differenziata, in aumento anche se di minore qualità. Sono alcuni dei dati emersi nella relazione presentata al Nicolaus Hotel da Unirima, associazione di categoria che rappresenta e tutela le imprese italiane del settore della raccolta, recupero, riciclo e commercio della carta e di altri materiali recuperabili. La Puglia sta comprendendo ancora meglio la necessità di implementare i risultati della raccolta differenziata, non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi. Queste sono le basi per dare corpo al principio di economia circolare, queste sono le basi per dare corpo a una corretta raccolta nei nostri territori, a una valorizzazione del rifiuto che in altre economia in altri paesi è sempre più una risorsa e da noi ancora forse più pubblica che una risorsa. Nel 2022 in Puglia la produzione di rifiuti urbani risulta diminuita dell'1,89% rispetto all'anno precedente, la percentuale del 58,6% più alta però della media del Sud Italia. Se si vanno ad analizzare nel dettaglio i dati regionali fra le frazioni secche e la carta, quella con il quantitativo maggiore anche in aumento rispetto al 2021. Dai dati di Ispra del 2023 che riguardano l'anno del 2023 viene fuori una Puglia virtuosa al 58,6% di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti solidi urbani che la porta in testa diciamo alle regioni del Sud, ma non basta. Non basta perché se è vero che la quantità di raccolta differenziata è aumentata negli ultimi tre anni, è vero che è diminuita e peggiorata la qualità del rifiuto. Sotto questo aspetto siamo molto indietro. Il piano regionale dei rifiuti credo si possa dire ormai essere un piano non realizzato, ci sono delle responsabilità collegiali per questo. Però noi dobbiamo occuparci prima di tutto degli effetti che la politica e la non corretta gestione della politica riverbera poi sui cittadini. L'ultima sentenza, quella sugli impianti minimi, potrebbe generare un vero caos e un disastro economico per i comuni e quindi sui cittadini contribuenti. Questo accade quando politica e privati non dialogano. Pensare positivo può essere una chiave. Negli ultimi cinque anni la Puglia ha assistito a un aumento della differenziata del 13% grazie alla rete capillare di impianti di recupero su scala regionale. Però come in tutte le cose c'è anche un ma. Purtroppo negli ultimi anni è anche aumentata la percentuale di frazione estranea riscontrata nelle raccolte differenziate. Da un'analisi condotta sulle imprese nostre associate sui conferimenti di multimateriale, plastiche, lattine e carta abbiamo riscontrato negli ultimi tre anni, nel caso del multimateriale, un incremento di sette punti percentuali della frazione estranea che in questo caso ha superato il 22%. Questi scarti di lavorazione non riciclabili tuttora vanno a finire in gran parte in discarica e questo è l'altro elemento sul quale bisogna agire perché ovviamente le direttive europee impongono una riduzione del conferimento in discarica che deve arrivare al massimo al 10%. Purtroppo nella regione Puglia la gran parte degli scarti non riciclabili vanno ancora in discarica ma è una tendenza che abbiamo riscontrato anche a livello nazionale. La fotografia in particolare mostra una Puglia caratterizzata dalla presenza su tutto il territorio di una consistente rete di impianti su tutti i cartel cartone di trattamento rifiuti provenienti dalla frazione secca della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Salutare il modello lineare e abbracciare quello dell'economia circolare può rappresentare la definitiva rampa di lancio. Noi estraiamo dalla nostra terra molto più di quello che servirebbe se adottassimo criteri di economia circolare anziché lineare quindi sostanzialmente estraiamo tantissime 500 milioni di tonnellate vanno via ogni anno, ne consumiamo quasi il 90% ne sprechiamo il 90% perché non vengono riutilizzate o riciclate e questo naturalmente si scarica sul problema dei rifiuti quindi davvero è tutto assurdo, tutto insostenibile. Faccio un esempio per intenderci se smettessimo di comprare che ne so panchine in legno piuttosto che in metallo e utilizzassimo panchine o parchi giochi o staccionate o cestini per i rifiuti interamente in materiale plastico riciclato che tra l'altro ha anche una grande durevolezza nel tempo è uno degli esempi di quello che significa economia circolare.